Il giornalismo ha un ruolo fondamentale sia nell'aiutare a conoscersi meglio, nella coesione sociale, sia nel suo opposto, cioè quella a creare muri e separazioni. Dunque è una professione che, a seconda di come racconta il fenomeno migratorio, arriva poi alla possibilità di vivere tutti meglio o peggio. Dunque ritengo che non si possa mettere sullo stesso livello per avere un bilanciamento il razzista e l'antirazzista, l'oxenofobo e chi fa accoglienza, perché non sono due posizioni paragonabili. E chi lavora sulla divisione fa molto male alla nostra società e così come fa male chi si presta a dare voce e spazio a chi vuole minare le fondamenta della nostra società.